Si chiama Joel Goyot. Pensate che è un senatore della Francia che appartiene al gruppo politico llamado Lee Independent. L'uomo sarebbe stato arrestato ieri dalla polizia di Parigi, accusa sarebbe quella di avere drogato una donna che sarebbe una deputata per poi, diciamo così, ottenere dei favori di tipo intimo barra sessuali. Sarebbe stata, diciamo così, la notizia che è stata pubblicata qua sul web ad aver creato già un polverone nei confronti di questo politico francese. Le alcune sarebbero molto pesante a suo carico e tuttavia faccio presente che i profili di Twitter e Facebook sarebbero già spariti, infatti non sono raggiungibili al pometto. Tuttavia l'uomo avrebbe già fatto parare di sé perché nel 2016 espose o mai pubblicò un post su Twitter in cui per l'appunto avrebbe messo un'immagine del pene di un pene. Va bene? Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina, qua non si sa come andranno le cose anche perché si tratta comunque di un politico francese, il senatore. Ciao a tutti, una buona sera da voi.